Al di là di questo che è l'argomento... ...che si potrebbero fare tranquillamente la settimana fa, perché si sono... ...e qual è il motivo? Siccome è stato comprando l'argomento caso di sicurezza di lavoratori, se permettete consiglieri... ...che dica la cosa. Per quanto riguarda il pagamento ritardato, siccome era stato liberato da un'attività comunale, l'argomento dell'atticipazione di tesoreria, secondo la nuova normativa, che passa dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi dei primi del titolo, chiaramente, questa delibera della giunta non è stata identificata in tempo al tesorio, e il tesorio è il quinto, non è di questa delibera... Assessore, 15 giorni fa abbiamo fatto un accordo, non dovevamo aspettare stamattina il 6 maggio, stamattina 6 maggio, per non spiegare di questa delibera, abbiamo chiuso l'accordo quasi, 15 giorni fa, 15 g archaeo si poteva fare di tutto No, non ti domani, non ti domani, non ti domani, non ti domani!